Hello everyone, we are glad to announce our collaboration with iID. We welcome iID students in India as our guest. We look forward to commercializing credible projects from iID with this venture together. We are glad to have Damiano working with Kucheseven as our senior designer. His inputs have improved our design quality and given it an emotional touch. Volevo ringraziare l'Istituto Italiano Design e Kucheseven per avermi dato questa possibilità di innalzare la mia professionalità contaminandola con una cultura così diversa e interessante dalla nostra come quella orientale. Le prospettive che mi lasceranno questa esperienza sono sicuramente un pass partout per una carriera a livello internazionale nel mondo del design. Design for your future! Grazie a tutti!